e adesso andiamo a visitare questo negozio natalizio di trani che apre già già a inizio ottobre finalmente entriamo una un 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 Grazie. 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 L'altro che avevano visto... Sì, questo è bello, 3.50 euro, bellissimo. Le babbucce di forest. Dai prendiamo questo. Vabbè. la forma per fare il panettone si per appendere le cali si molto compriamo questo bellissimo questo negozio dovrebbe stare aperto tutto l'anno guarda che bello questo tagliere con questo tre ciotoli sopra ciotoli 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Quello ha un posto già che sappiamo Ma sai che c'è lo di monete? Ah ok Grazie a tutti 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 No 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 sta aspettando un amico mio Ah ok Adesso ci sono i ragazzi Sono dei ragazzi che stanno prendendo la macchina Quindi i patatini e quindi i patatini si sono un po' spaventati e aspettiamo che la macchina vada via così Si rimettono si rimettono si rimettono si rimettono si rimettono tutti lì a mangiare vabbè comunque vedo che alla fine E' a mangiare qui si è un'altra parte lì a buon partita anche con termosso però non per liquidi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.